Il nome del prodotto è UPS, Hologram Projection System. Si tratta di un sistema innovativo in grado di proiettare immagini nello spazio libero, mediante hologrammi tridimensionali da un qualsiasi dispositivo mobile. Il prodotto si inserisce in un contesto globale di Information Technologies adattabile a qualsiasi dispositivo mobile per condividere risorse video e immagini senza l'usilio di altri apparati di proiezione. Chi acquista il nostro prodotto è l'utente di servizi per telefonia, il professionista che ha esigenze di promuovere servizi e prodotti verso i propri clienti e chiunque abbia necessità di comunicare attraverso immagini in uno spazio aperto. Praticamente tutti. UPS! Immaginare il futuro e guardare il presente! To imagine the future means to look at the present. Sono Matteo, Edoardo, Marco, Elia, Jacopo, Ivan, Marco.